Per un mondo migliore Azienda Giovane occupa un ruolo importante nel settore dell'ecologia consentendo di ridurre l'impatto ambientale tramite raccolta, recupero e riciclaggio di materiali recuperabili quali cartone, plastiche, legno, ferro e quant'altro possa rientrare nella filiera del recupero Inoltre ha anticipato i tempi sulla corretta gestione dei rifiuti industriali ed è in collegamento con impianti all'avanguardia sul territorio per poter assicurare il corretto smaltimento presso cartiere, fonderie e industrie plastiche e del legno La nostra attività consente infatti una riduzione di conferimenti nelle discariche e conseguente valorizzazione di risorse preziose Molti clienti tra il pubblico e il privato ormai scelgono Ecodim affidandoci la raccolta e smaltimento rifiuti il tutto gestito e trasportato con mezzi propri presso il nostro centro di stoccaggio dove vengono lavorati, cerniti e riavviati al recupero Ecodim, azienda leader nell'Interland meridionale che opera con successo nel settore del riciclo dei beni di recupero e dello smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi capace di offrire alla propria clientela esperienza, professionalità, serietà e cortesia Ecodim, via Caldarola, strada Santa Teresa 2, Bari